appassionati di meccanica e di mezzi ancora il solito bentornato con lo stego anche oggi mi trovo in una cava tra l'altro con un panorama spettacolare e con dei mezzi straordinari guardate il primo è questo incredibile scavatore lieber 945 per me il più grande scavatore che abbia mai visto è un mezzo dal peso di 42 tonnellate veramente 42 42 mila chili ho appena fatto alcune misure con lo stego metro che non è altro che un metro da muratore rotto che arriva fino a un metro e settanta e devo dirvi che le misure sono spettacolari i cingoli sono larghi 60 centimetri e il mezzo è largo 3 metri e mezzo ha una penna di carico da 3 metri cubi e se pensate che più o meno un metro cubo di sabbia pesa 18 quintali possiamo dire che trasporta più di 5 tonnellate al colpo è un mezzo spettacolare a un motore quattro cilindri ovviamente a gasolio con una potenza di 300 cavalli quasi guardate le dimensioni rispetto al mio piede l'intreccio di tubi idraulici impressionante più grande come definirlo raccordo idraulico che abbia mai visto e mezzo tra l'altro nuovo vedete le tubazioni ancora perfette guardate anche il panorama in questa cava straordinario in lontananza si vedono dei silos che sono probabilmente abbandonati tuttavia il mezzo che mi interessava particolarmente riprendere è questo perlini che si staglia all'orizzonte ripreso anche dal Marvin una settimana fa è un mezzo comunque dalle dimensioni dimensioni colossali l'ho appena misurato nella larghezza e fa 3 metri e 10 con una larghezza utile del cassone di 3 metri è un mezzo spettacolare veramente adesso sono sotto nella parte della sale anteriore vedete le sospensioni che non sono i classici fogli di balestra ma sono sospensioni idrauliche e sono ancorate sempre in modo colossale con dei dadi e bulloni giganteschi sulla sale diciamo spettacolare guardate sempre in rapporto con il mio piede la sale l'ho appena misurato nel suo spessore fa 20 centimetri quando l'ha ripreso il Marvin il cassone era sollevato il mezzo era in manutenzione il cassone comunque io ci passo sotto sulla parte terminale e vi dico che sono alto più di un metro e 80 beh la sale posteriore è solo si può dire solo spettacolare è colossale veramente anche qua sospensioni idrauliche dimensioni incredibili eccole sempre in proporzione con il mio piede questo serbatoio che vedete non è del gasolio ma è per l'olio idraulico perché questo mezzo ha una trasmissione idrostatica e non con il classico cambio e frizione ecco la pompa del servosterzo sono sotto la cabina di guida qua è davvero tutto meraviglioso adesso vediamo se riesco a sollevare la paratia del motore per dare un'occhiata appassionati scusate l'emozione veramente una meccanica meravigliosa imponente perché per la prima volta riesco a vedere proprio tutto qui c'è un'accessibilità incredibile si tratta del classico motore fiat sei cilindri in linea ecco vedete rossiccio il carter di protezione del collettore di scarico sotto si vede la pompa del gasolio dei sei cilindri vedete i due soliti coperchi delle valvole separati ecco un primo piano dell'iniettore si vede bene tutta la rampa dei sei iniettori la pompa dell'acqua i soliti tubi del liquido di raffreddamento del monoblocco ecco la dietro il cambio idrostatico che vi dicevo e deve essere stato sostituito perché è praticamente nuovo però ecco la particolarità di questo motore che è un motore turbo con una turbina enorme che è la più grande che abbia mai visto avevo potuto osservare quella del motore della tema turbo da 165 cavalli ma credo che questa sia almeno 4 5 volte più grande l'aria entra da questo filtro ragguardevole attraverso quel tubo affluisce alla turbina che comprime l'aria esterna eccola qua la prima vedete diametro di almeno quasi 30 centimetri pazzesca sua volta questa turbina è messa in moto la girante dai dai gas di scarico su quest'altra turbina e poi i gas fuoriescono guardate la girante rispetto alla mia mano straordinario davvero fortunatamente il camion è aperto e quindi possiamo dare un'occhiata anche alla strumentazione beh sono veramente sorpreso da una strumentazione da una postazione è veramente bella e completa ecco qua la leva selettrice del cambio idraulico che idrostatico che vi dicevo quest'altra leva sicuramente il freno a mano quella invece alla sua destra non lo so forse qualche acceleratore a mano la parte sinistra della strumentazione comprende un amperometro un conta ore sotto con 36 mila ore però ne ha fatto di lavoro livello del combustibile il contagiri il contachilometri con 93 mila chilometri la temperatura del liquido di raffreddamento la temperatura dell'olio il manometro con la pressione dell'olio idraulico il manometro della pressione dell'aria e un altro manometro credo anch'esso dell'aria una particolarità il motorino del tergicristallo alimentato anch'esso dall'aria compressa come nel fiat 690 comunque è veramente sorpreso in positivo di questa di questo cockpit beh devo dirvi che non vorrei più andare a casa veramente non so più dove guardare eccezionale comunque con queste ultime immagini della Lieber e del Perlini in lontananza lo stego vi saluta e vi da appuntamento ai suoi prossimi video che vi ricordo vengono pubblicati sempre lunedì alle 20 e 30 ciao a tutti